La nostra democrazia europea è un bene preziosissimo da difendere in tutti i modi, anche dai pericoli che vengono dall'esterno. In questi anni sappiamo che vi sono stati numerosi tentativi da parte di attori stranieri, statali e non di condizionare i processi democratici europei con l'obiettivo di indebolire il nostro progetto e i valori su cui si fonda. E, come diceva il Presidente Gruxman, tanti sono gli strumenti che sono messi in campo contro di noi, da forme più o meno dirette di finanziamento a partiti e fondazioni, a cyberattacchi, fino a campagne di disinformazione organizzata, magari attraverso l'uso distorto delle piattaforme. Questi tentativi hanno sempre due cose in comune. Tendono a favorire sovranismi e nazionalismi e hanno come bersagli preferiti minoranze e soggetti più vulnerabili, migranti, donne, comunità LGBT. Da diversi mesi nella Commissione Speciale Inge stiamo affrontando tutto questo e abbiamo intenzione di andare fino in fondo. Anche smascherando quei complici, pure presenti tra le forze di estrema destra, d'Europa, che sventolano ipocritamente bandiere nazionali ma prendono ordini da Mosca. O penso a quelle forze che, alluda ad esempio la Lega di Salvini, hanno intrattenuto relazioni ambigue e tutte ancora da chiarire con i vertici russi. Ovviamente il rischio dell'interferenza esterna, almeno potenziale, è purtroppo assai vasto. Non riguarda solo Russia o Cina. Ci sono regimi o sistemi antidemocratici che intrattengono rapporti con diversi esponenti politici europei, penso ad esempio all'Arabia Saudita, che cercano un continuo e pericoloso scambio politico. L'Unione Europea, il senso del nostro lavoro, ha bisogno di mettere in campo una forte strategia di difesa della propria democrazia e ha bisogno di farlo da subito.